E si impara tutto lo staff del Royal Games, lì a tutti i partiti! E loro sono lo staff del Royal Games, vengono a ballare, a fine serata! Ciao a tutti, buonasera a tutti! Ciao, alla prossima! Sulle mani ragazzi, sulle mani! Sulle mani ragione! Eccoli qua! Vengono! 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 Vengono Niko deriva la grande finale, grande finale, Niko organizzatore Mi raccomando non me lo fate male Niko che devo fare altre segate Grazie a tutti, buonanotte alla prossima, buonanotte a tutti, buon proseguimento Buonanotte ciao Un saluto su Facebook, un saluto, un saluto, un saluto, un saluto, tu ti nascondi Ciao 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 ciao, eccole qua, eccole Bene, bevevo state cari amiche di oggi, vieni, vieni, vieni Bevo Tutti insieme Hollywood! Pronti? Vado un po' dietro! Riprendo tutti! Riprendo tutti Ciro di qua dove siete stati? Sperate spariti voi! Eronica! Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao Giovanni! Grazie di tutto! E questa è la mia console! Eccola qua! Ciao! Ciao! Ciao!